Musica Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con 15 minuti con la trasmissione di approfondimento di Free TV Oggi ci occuperemo di un argomento, possiamo dire, scottante Che in questi giorni, queste settimane qui a Comiso è al centro dell'attenzione Ovvero l'affidamento dello stadio comunale, insomma un bene prezioso Lo faremo insieme al Presidente del Comiso Calcio, Salvatore Di Stefano Presidente, intanto buonasera Buonasera, buonasera Presidente, cerchiamo brevemente di spiegare ai nostri telespettatori che cosa sta succedendo L'amministrazione comunale ha emanato un bando per affidare ad altri la gestione dello stadio comunale Però insomma il rischio concreto è quello che la squadra di Comiso il prossimo anno, la prossima seggione Non abbia più uno stadio dove allenarsi e tantomeno dove giocare la domenica Sì, infatti è proprio così perché da quel momento che c'è stato il dissesto a Comiso Il sindaco ha dovuto cercare di recuperare un po' dappertutto E questo è chiaro, questo è importante Ma la cosa che sta un po' portando confusione un po' a tutti è il fatto che dare in gestione la struttura del campo sportivo La struttura dove molti dirigenti si impegnano giorno dopo giorno a cercare di portare avanti sempre quel nome sportivo della città Quindi più volte si è fatto un bando dissertato che nessuno ha partecipato Ultimamente hanno ribassato i costi, abbiamo fatto questo bando insieme con un'altra società che fa settore giovanile a Comiso Voi avete partecipato a quest'altro bando oppure no? No, gli altri no, per la verità no perché era assurdo dire Nessuno partecipava, restiamo così anche perché partecipare e vincere il bando significerebbe andare a pagare E per forza di cose se noi andiamo a vincere questo bando ci sarebbe di aumentare ancora le spese di gestione Per dire la luce, il metano Ma la manutenzione che ci vuole per lo stadio è un bando che dura per nove anni, quindi un affidamento di nove anni Un bando di nove anni, più volte abbiamo insistito con il primo cittadino di Comiso a dire che è impossibile Chi vive queste cose, chi vive queste cose tutti i giorni è impossibile Lo stadio comunale che rappresenta la città, direi, portare avanti il giorno di scorso del genere è impossibile Però le cose stanno andando avanti, cerchiamo di vedere cosa succederà a giorni Ecco lunedì ci sarà tra l'altro l'apertura delle bus Sì, infatti ieri c'è stato e poi così alla fine non si è votato il Consiglio Si è riunito per cercare di fare una mozione a questo bando e dire lasciamo le cose come stanno Ma prima di questo c'è stato un incontro con il sindaco, la mia società, con quella che partecipa a questo bando Di trovare un accordo Un accordo che non si è trovato e che comunque noi eravamo aperti a dire cosa volete Cioè la verità è quella che queste persone vogliono il campo a tutti gli effetti Quindi si va all'apertura delle buste Aprire le buste significa che se il Comiso Calcio perde questo bando Perde anche il campo, perde anche sicuramente quello che è il titolo della squadra Quindi emigrare, emigrare altrove significa che se oggi, ieri, in questi giorni Quello che abbiamo fatto con il sindaco Grazie, ringrazio il sindaco che ha cercato di unire queste due società Di dire, vedete un po' il come e quanto Che io chiedevo soltanto che voglio Che la squadra gioca ogni 15 giorni in casa E due ore al giorno per 5 Per gli allenamenti diciamo E continuare a pagare quello che ho pagato fino adesso Perché il canone è la mia società Però forse bisognava pensarci prima Nel senso di non fare il bando Perché effettivamente lo studio comunale Insomma è una struttura di cui non si può fare a meno Di cui una città che vuole una squadra di calcio non può fare a meno Infatti questo mi sorprende perché Dico in questo momento delegato di elezione In questi mesi In questo momento delegato anche nella mia società Che stiamo lottando per la salvezza Arriva una tecola del genere E ci scompossola un po' Però ripeto Queste sono quelle cose che stiamo vivendo E stiamo aspettando qualche giorno per vedere Un po' come vanno le cose Ripeto Se noi perdiamo il bando Perdiamo anche il titolo Perché non abbiamo più titolo Non possiamo continuare Non posso andare a chiedere a questa società Che acquisisce questo bando Di dire Di darci Non so quando Ogni due ore di allenamento E quindi Significa portare il titolo fuori E ripartire come Come so Cinque anni fa Sei anni fa Tu sai meglio di me La squadra del micro A Vittoria Ma ora rischia di nuovo di emigrare Spero di no Spieghiamo un po' anche ai tifosi Che ci segue La soluzione del campo di pedalino Potrebbe essere percorribile Visto che Questo di pedalino Insomma se non mi sbaglio Ancora è di proprietà del comune Ma sì Proprietà del comune Però Devo dire che Pedalino Allora oggi posso dire Perché non vale il bando a pedalino Perché queste società Che fanno settore giovanile Non darci il campo di pedalino E Non disturbare a quelli Che stanno facendo E hanno fatto negli anni calcio Rappresentando la città di Comiso Diciamo A Comiso Quindi pedalino per noi Non funziona più di tanto Quindi meglio andare Non so A Cate A Chiaramonte Che l'area è molto più fine Quindi Fare calcio là Sarebbe Direi un autogol Per l'istituzione attuale A Comiso Insomma è un autogol non da poco Visto che la squadra della città di solito Non si tocca È sempre una vetrina importante Specialmente con la squadra di calcio Che dà lustro E anche una società storica come la vostra Che cinque anni fa prese le redini Dopo che il titolo fu spostato a vittoria Quindi insomma Forse non vi gratifica questa scelta sicuramente Sicuramente tutto questo che è stato fatto Non è stato credito È stato credito poco Tutto questo che I sacrifici che noi dirigenti in questi anni abbiamo fatto Chi non li vive non li capisce È come dire È come un centrocampista in campo Che quando fa il ruolo di copertura Quando è in campo e gioca non si vede Quando manca Che non c'è nel campo si vede il danno che fa Quindi un giorno Spero che non va a finire Su questa brutta vicenda Che il Comiso Calcio Emilia altrove Ma se va a finire così Sarà una cosa brutta Sarebbe la fine per lo sport a Comiso Come anche in altri posti Che tutti sappiamo I costi sono quelli che sono Quindi sarà una brutta cosa Per quei pochi tifosi Per le appassionate Ancora una volta Fa scomparire i colori del Comiso Calcio I colori verdarancio Sarà un lutto Veramente Che chi capisce questo Lo ricorderà a lungo Ecco un'altra Un'ultima domanda Per chiudere un po' Questo argomento Chi vincerà l'appalto Il bando Dovrà anche coprire I costi di gestione Per quanto riguarda L'inerbamento Oltre alla manutenzione Ordinare Che forse sono i costi Quelli maggiori Quelli del mantenimento del campo Proprio dell'erba Dovrà mantenere Devo dire che fino adesso In questi 3-4 anni È stato a carico mio A carico della mia società La manutenzione E tutto Adesso Chi vince il bando Oltre alla manutenzione Deve curare Deve pagare Il metano La luce E tutte le piccolezze All'interno Diciamo Della società Quindi se oggi A me il campo Oggi Dico oggi In questi anni Mi ha costato Non so 3-400 euro al mese Così mi costerebbe il doppio Quindi Aprire le buste E vincere il Comiso Sarà sempre un problema Un problema Perché Se io mi aggiudico Questo bando Devo Sottoscrivermi a quella Che sono L'energia elettrica Anzi c'era l'acqua E l'ha tolto Hanno abbassato i costi L'energia elettrica Il metano E tutte le spese Giornaliere Che si fanno Ripeto Un danno in più Cioè un danno Nel senso Che già si fa fatica Ad andare avanti E andando ad acquisire Questo Si va ancora A spese Che ti mettono Il bastone fra le ruote A chi negli anni Ha fatto calcio Con grossi sacrifici Perché per mantenere La struttura Però bisognerà Poi rinunciare Magari Invece A comprare A pagare Quel giocatore Ti può far fare La differenza Sì sì Infatti Cale il tasso E questo Diventa una cosa Che già E dappertutto Già io Mi volto E mi giro E vedo un po' Che Tante soluzioni Tante società Stendono Ad andare avanti Tante società Non possono continuare Tante società Non si iscrivono Quindi anche qua L'occhio della FGC A cercare di abbassare Anche loro I costi I costi Di iscrizione Di trasferta E tutto Però Restiamo nel nostro Comiso Con il dissesto Ci ha messo Male un po' A tutti E come Chiudiamo questa parentesi Parliamo ora invece Passiamo al calcio giocato Mancano le ultime partite Per terminare La stagione regolare Si tenne il comiso In lotta Per la zona play out Questo camminato Non ha soddisfatto Le aspettative Si sapeva che era dura Un altro anno Un po' particolare Ecco Si aggiungono Un altro anno Un po' particolare Perché Iniziato male Spero che non finisci peggio Quest'anno Ho avuto la fortuna Dopo che A giugno L'anno scorso Aprile l'anno scorso Quando ci siamo salvati Avevo dato Portato al sindaco Di Non riuscivo più Ad andare avanti Il sindaco Ha cercato di portarmi Degli imprenditori All'ultimo Non avevo trovato Uno E che poi All'ultimo momento Sfumato tutto Il tutto si doveva dare E si doveva dire Con un passo Un passaggio Di società gratis E con questo Devo ringraziare Che quest'anno Ho trovato sei soci E io sono il settimo socio Rappresento La presidenza Ma sono uno dei sette E quest'anno Eravamo partiti Per cercare di fare Un buon campionato Ci abbiamo organizzato Abbiamo cercato Di fare qualcosa di buono Però sai Sono campionati Sai come iniziano Iniziano con un progetto In un programma Poi man mano Vanno cambiando Per un insieme Di circostanze Facendo un paragone Con la Serie A Possiamo dire Un po' come il Palermo Nessuno si aspettava Diciamo che sì Anche perché sono Fiducioso anche del Palermo Io sono fiducioso Del Palermo Che riuscirà a salvarsi Come riuscirà a salvarsi Anche il Come Passando per i play out Quasi certamente Sicuramente sì A questo punto Dobbiamo Un miracolo Che io credo Ai miracoli E credo Alla fiducia Dei giocatori Alla fiducia Dei dirigenti Che fino ad oggi Siamo messi Stretti All'oro Quindi stavo per dire Che il cambio Dell'allenatore Il cambio di giocatore Che per un motivo O per l'altro Non legavano Al nuovo Al nuovo Mister I dirigenti I dirigenti nostri Che oggi Sono come detto Prima Alla mia stessa Al mio stesso Modo di fare Escono di tasca Alla stessa Cipra mia Hanno voluto Nel percorso Dire le sue Cose sue Anche Di certe cose Avendo poca fiducia Degli altri Quindi c'è stato Un periodo Che arrivava Un giocatore Tutte le parti Una grande confusione Poi è calmato il tutto Qualche infortuno Di Cinnerella Questo ci ha penalizzato Tanto Qualche acquisto Che è andato Non tanto a buon fine Ci troviamo Con una bella squadra A cercare di Lottare Per questi pre-out Presidente Ci avviamo verso la conclusione Parliamo un po' Di una piccola soddisfazione Piccola grande soddisfazione Che la riguarda La scorsa settimana In Zardegna Ha ricevuto un premio Per la sua presenza Nel mondo del calcio La sua costanza Per i suoi 30 anni C'è anche la targa Magari la facciamo Sì infatti Questa devo dire Che è la nota più bella Di questo campionato Perché Dopo tanto amaro Arriva un po' Un po' di dolce Ecco come mai Infatti hanno deciso di Sì infatti Un po' di dolce Che questi Che mi appaga veramente Questi più oltre 20 anni Di dirigenza nel calcio Quindi a Cagliere È stata una bella esperienza Unica Per me Ringrazio la FIGC E il presidente Morgana Che mi ha dato La possibilità Di partecipare Con tanti ospiti Con tante persone A partire Del presidente Delle Sere B Beretta C'è una grande festa Che veramente Mi onora Una dimostrazione Un po' che C'è attenzione anche Per il mondo Degli sport Dillettantistico Del calcio Dillettantistico Quindi non solo Sere A Sere B Il grande nome Ma anche chi lavora Appunto Nel proprio piccolo Nella propria La verità Infatti la verità È proprio questa Che nel programma In quello che Il presidente Tavecchio Ha detto Che i veri La vera forza Che è Sono i delettanti C'è i dirigenti Del delettantismo Che cerchiamo Giorno dopo giorno Di portare avanti Bambini E ragazzi E boppi o grandi Ognuno delle nostre Società Ognuna delle nostre Società Quindi Il lavoro che facciamo Noi delettanti Dirigenti È molto più importante Come dici tu Di quello che fanno Il Sere A E il Sere B Quindi Un premio Che veramente Per me Mi appaga tanto E che comunque Attraverso i giornali Attraverso qua La televisione Devo dire che Lo dedico A tutti i dirigenti Che in questi Lunghi anni Mi sono stati vicini In questi lunghi anni Mi sono stati vicini Questi dirigenti E quindi io dedico Questo premio a loro Perché un capitano Senza soldati Non sarebbe Arrivato a tutto questo Quindi grazie A tutti questi dirigenti Dal lontano 1985 Ad oggi E un grazie Veramente anche A padre Franco Ottone Che è stato In questi cinque anni Un grande dirigente Un grande tifoso nostro Quindi non solo Il padre Possiamo dire spirituale Della squadra Ma anche insomma Un accompagnatore Ma veramente Questo lo devo dire A fronte alto Ringrazio anche In particolare A padre Franco E il nostro sponsor Multifide Che ci è stato Molto vicino In un momento particolare Di crisi Come tutti sappiamo Perché oggi La crisi ci sta portando Anche a questo Perché se non ci sarebbe La crisi Ci sarebbe Per i soldi Non saremmo qua A discutere Di queste brutte cose Che fanno male Al calice Bene Presidente Il nostro tempo È a disposizione Terminato Noi la ringraziamo Per questo intervento Qui nei nostri studi Sperando che il prossimo anno La città di Comiso Possa continuare Ad avere la propria squadra Io me lo auguro Me lo auguro E spero che Comiso Resta a Comiso Perché la squadra di Comiso È dei comisani E noi siamo pronti A continuare Il prossimo campionato Con questo gruppo Meraviglioso Che io di dirigente Ho trovato A continuare Se il campionato Finisce a maggio Già a organizzarsi Il giorno dopo Per la promozione O per l'eccellenza Ma di fare calcio A Comiso Perché ripeto I colori verde-arancio Devono restare a Comiso E tutti devono capire Che la squadra di Comiso Non si tocca Deve restare a Comiso Speriamo bene Grazie Un ultimo saluto Anche ai nostri telespettatori L'appuntamento È con una prossima puntata Dei 15 minuti con